eccoci qua sono così felice di inaugurare le vacanze di primavera con un'avventura in australia anch'io non vedo l'ora di incontrare i miei animali preferiti poca cola canguri caspita guardate un altro animale che cos'è? sembra un pipistrello in realtà è uno scogliattolo volante megan buongiorno amiche e complimenti per aver trovato uno degli animali che mancavano nel mio diario naturalistico amo aiutare i miei amici senza nemmeno saperlo dite tutte insieme avventura australiana avventura australiana un altro animale nascosto allerta ornitorinco sono i miei preferiti una foto prego grazie al loro grande becco percepiscono la presenza di altri esseri viventi prima di vederli, fiutarli o sentirli giusto shani è il loro sesto senso davvero interessante mi sembra di vedere qualcosa che assomiglia a un incrocio fra un ornitorinco e un porco spino un ornito spino sarebbe un nome davvero perfetto ma in realtà si chiama echidna a me piace di più ornito spino è il verso del cucaburra a loro piace tantissimo ridere anche a noi che divertimento ragazze è una caccia al tesoro in mezzo alla natura quale sarà il prossimo ritrovamento? un momento, non vi muovete quello è un petauro dello zucchero si chiamano così perché adorano i dolci beh, anch'io adoro i dolci d'ora in poi potete chiamarli i polli o i Laila o gli Shani il pensiero dei dolci mi ha fatto venire una fame da lupo anzi da coccodrillo ora andiamo al campo tenete gli occhi ben aperti per vedere gli inafferrabili Jackie ecconi uno! oh no, me lo sono perso ecconi un altro! è scattato? no, non ho fatto in tempo beccato? perfetto ragazze, ottimo lavoro direi che è arrivato il momento di preparare un bel barbecue chi ha l'acquolina in bocca? sapete amiche? senza di voi ci avrei messo un mucchio di tempo a fare tutte le mie foto vi sono enormemente grata oh, è stato troppo divertente! grazie a te abbiamo visto tanti animali che altrimenti ci saremmo perse ascoltate! avevamo dimenticato le farfalle! selfie di gruppo? sì! diciamo insieme che bella giornata! che bella giornata!